Rassegna stampa di lunedì 29 aprile 2013 che apriamo con la Gazzetta del Mezzogiorno in prima pagina, un'altra brutta figura dell'Enel Basket. La squadra di coach Bucchi, sconfitta a 87-93 dal Bologna, chiude tra i fischi la sua ultima partita in casa. Una squadra bulica con i giocatori che avrebbero dovuto essere riconoscenti verso chi li ha idolatrati. Commerciante fermato e rapinato sulla Statale 16, Ostuni, vittima un fruttivendolo di Francavilla che si stava recando con il camion a Fasano. Quattro malviventi armati gli hanno tagliato la strada e gli hanno sottratto 1.200 euro. La giovane Deborah, cresimata dal Papa, eventi alunna del Morvillo, ieri in Piazza San Pietro. Tra i 44 cresimati dal Papa, ieri in Piazza San Pietro, provenienti da ogni parte del mondo, c'era infatti anche la 17enne Deborah Scarpa. 36 lampioni abbattuti o danneggiati da cattivi automobilisti. Francavilla Fontana, lungo le principali arterie, 36 lampioni sono stati abbattuti da camion, autocarri e furgoni dei corrieri che abitualmente posteggiano sui merciapiedi e poi vanno via facendo finta di niente. La città di Brindisi conquista la salvezza, partita ricca di emozioni e colpi di scena, pareggiando a Matera con il risultato di 3 a 3. Basta un punto e punto è stato. Incidente all'alba, ferita una guardia giurata. Sulla statale 7 un autosecurpo il tampone a un gommone al traino, ferito lievemente un vigilante che viaggiava a bordo della sua auto di servizio. Nella mezza maratona e festa nella città bianca, Ostuni, Ivan Di Mario e Palma De Leo sono i vincitori. Ivan Di Mario ha vinto il campionato italiano master di mezza maratona. Palma De Leo è campionessa d'Italia. Passiamo a quotidiano. In prima pagina, nautica riparte la sfida. Il salone nautico di Puglia diventa gratis per tutti i visitatori. Gli enti locali insieme per il rilancio del comparto, l'esposizione a fine maggio. Acque rosse, oggi il verdetto è anche da Sanofi via alle verifiche. Si conoscerà oggi la verità sullo sversamento di sostanze che ha colorato di rosso le acque del porto di Brindisi. Intanto Sanofi Aventi si spiega di aver avviato i propri accertamenti. Pioggia di gol e pareggio, la salvezza è di rigore. Un pareggio rocambolesco, 3 a 3 in terra lucana, in casa Brindisi è il momento della festa. Verità sui due scomparsi e il paese scende in strada. San Donaci scende in strada e si stringe intorno alle famiglie di Massimiliano Marino e Luca Greco, di cui non si hanno più notizie dal 10 marzo. Una bastonata alla nuca, misteriosa e pericolosa aggressione ad un dipendente del petrolchimico. Qualche sera dietro stava rincasando in sella al suo scooter quando qualcuno lo ha affiancato in auto e gli ha sferrato una bastonata alla nuca. Indaga la questura. Caccia aperta alla banda del Bancomat. Caccia aperta ai banditi che l'altra notte hanno assaltato il Bancomat della filiale del Banco di Napoli di Torre Santa Susanna, portandosi circa 70.000 euro. Vigilante contro Jeep. Incidente, tre feriti. Uno spettacolare incidente stradale si è verificato all'alba di ieri a Mesagna e lungo la Statale 7. Tre feriti, tra cui un Vigilantes. Ladri scatenati ma va a vuoto l'assalto alla casa dell'ex bomber. Tentano il furto a casa dell'ex bomber Orlandini. A Mesagna c'è preoccupazione per i colpi nelle villette residenziali. Contro un'auto in sella alla Vespa, un pensionato finisce in ospedale. Scontro frontale tra un'auto ed una moto. Un uomo di 76 anni è ricoverato all'ospedale Perrino in seguito ad un incidente stradale avvenuto poco dopo il tramonto al quartiere Casale. Grazie. 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 Grazie.